Io volevo iniziare l'intervista da un'altra parte, però visto che siamo in un luogo di cultura, mi viene in mente il Ministero della Cultura dove succede un po' di tutto. Allora, fuori del dolore, cos'è successo? Lei ha incontrato il Ministro e state a queste dimissioni. Che succede? Guardi, io non ho incontrato il Ministro e le confesso che ho anche capito abbastanza poco della vicenda dall'inizio, tendenzialmente non me ne sono occupata. Ora, chiaramente insomma, seguo quello che si legge e esce sui giornali, ricordo che quando insomma si parlava della nomina di questa persona, vice segretario generale, poi segretario generale del Ministero, c'è stata anche la polemica, anche da Fratelli d'Italia mi dissero guarda c'è del nervosismo per questa nomina. Io ho detto parlatene col Ministro perché penso, al di là di tutto, che ciascun Ministro debba scegliere le persone con cui lavora, dovendosi assumere le responsabilità del lavoro che fa. Poi, in queste ultime ore, ho letto qualcosa di quello che è uscito sulle agenzie perché davvero non ho seguito la vicenda e non ho parlato con Alessandro Giuli, né quando ha nominato questa persona né quando Spano si è dimesso, apprendo da quello che leggo sulle agenzie che ci sarebbe una sorta di una specie di conflitto, un presunto conflitto di interessi tra l'attuale appunto di missionario, capo di gabinetto, chiedo scusa, non segretario generale, capo di gabinetto, del Ministro della Cultura è un'altra persona che risale al Maxi, risale ai tempi, da quello che ho capito, della gestione di Giovanna Melandri, nessuna di queste persone è stata nominata da Alessandro Giuli e quindi sono, nel senso, bene, ma credo che si debba chiedere conto a chi governava il Maxi quando questo è accaduto perché la cosa che un po' mi stupisce di tutta questa vicenda è perché esca adesso, cioè nel senso si sapeva ma non si è detto e lo diciamo adesso oppure perché quando le persone cominciano a lavorare con questo governo diventa tutto più complicato se lavori con quelli di destra e se lavori con quelli di sinistra sia chiaro che puoi fare qualità, insomma questo è tutto quello che ho imparato della vicenda, poi magari si saprà altro e quando si saprà altro le saprò dire ma insomma davvero ho altro di cui occuparmi, confesso. È una sensazione, devo dire, che ho provato anch'io alcune volte ripetendo cose che avevo detto nel momento in cui vengono collocate da un'altra parte che non sia la sinistra succedono delle cose che in altri momenti non succedono. Guardi, io ho visto in questi anni persone che sono state banalmente linciate dopo che erano anche persone insomma che in certi mondi erano state portate appunto di riferimento osannate per aver semplicemente detto ma io non sono d'accordo con le idee di Giorgia Meloni ma mi piacerebbe parlarci per provarla a convincere. Gente che è stata linciata per aver detto semplicemente questo in questo mondo un po' in cui le cose stanno sfuggendo di mano e nel quale c'è ovviamente un evidente utilizzo di due pesi e due misure come mi pare riguardi questo caso ma insomma ripeto se è una questione come mi pare di capire poi se c'è altro ce lo diranno che afferisce la gestione del maxi da parte di Giovanna Melandri penso che il report debba andare da Giovanna Melandri questo farei io ecco grazie a tutti grazie a tutti